Il progetto è finalizzato a far sì che la nascita di un neonato avvenga nel migliore dei modi o meglio che l'accoglienza del neonato alla vita sia avvenga nel migliore dei modi. Noi come centro nascita promuoviamo quello che è lo skin to skin, ovvero il contatto pelle a pelle madre neonato che rappresenta un momento importante di promozione per l'allattamento al seno, di facilitazione del contatto, del rapporto della madre con il proprio neonato e non c'è modo migliore che garantire questo contatto che noi abbiamo amato definire cuore a cuore. Il neonato si tranquillizza dopo aver sentito il battito materno, sta sulla torace della mamma per circa due ore pelle a pelle e questo è un processo estremamente importante. Per noi rappresenta un momento di gioia perché rappresenta il frutto della collaborazione dell'ospedale con le associazioni che sono sul territorio. In primis il centro antiviolenza con il quale collaboriamo tante volte, non così raramente, ma abbiamo visto negli ultimi tempi anche più spesso e per noi rappresentano una risorsa fondamentale per aiutare quelle donne che sono vittime di abuso e molti manufatti sono frutto del lavoro delle donne che sono accolte e protette dal centro di accoglienza. Per loro credo che possa rappresentare una seconda rinascita, una seconda maternità perché con i loro manufatti aiutano ad accogliere alla vita altri neonati, altri bambini.